Bene, oggi direi di fare qualche esercizio sui vettori, sia per conoscere meglio che per approfondire un po'. Cominciamo con questo, per esempio, che è uno molto semplice. Facciamo l'esercizio 18, a pagina 119, che dice su un foglio a quadretti, ecco perché ho messo i quadretti sul sfondo della lavagna, disegno un vettore V orizzontale di lunghezza 4 quadretti. Quindi lo faccio in rosso, supponiamo che parto da qui, abbiamo 1, 2, 3, 4 quadretti. Questo è il nostro vettore V. Per comodità, prendiamo anche questo, che è il nostro vettore unitario, chiamiamolo U. Quindi il nostro vettore V ha una lunghezza che è 4 volte, 4 quadretti, il vettore U, che è un vettore unitario. Quindi diretto da sinistra verso destra, delungo 4 unità, qualunque cosa sia l'unità. Poi dice, trova i vettori, per esempio, 2V. Trova questi vettori, 2 volte V. Allora, il doppio di V sarà un vettore che è sempre orizzontale, ma sarà lungo il doppio di V, nella stessa direzione e nello stesso verso, perché 2 è positivo. Mettiamo qui un più 2. Quindi qui sarà, basta scrivere più 2, V che è 4U, quindi qui sarà 2 per 4, 8, vettori unitari. Quindi avremo un vettore, qui lo cerchio in verde, che sarà lungo 8. Quindi io ho 4 e 4, 8. Questo è il nostro vettore 2V. Che è lungo 8 volte U, 8 unità. Poi dice ancora, trova meno V mezzi. Meno V diviso 2, o se preferite, meno un mezzo volte V. Quindi, anche in questo caso, avremo meno un mezzo per più 2U, no, più 4U, scusate. Il nostro V era 4 volte U. Quindi otteniamo, meno un mezzo per 4 fa 2, unità. Questo lo mettiamo in blu, quindi è lungo due quadretti, ma va verso sinistra, perché è il segno negativo. Quindi questo è il meno di mezzi, mentre questo era U. Questo U è un quadretto verso destra, meno 2U, sono due quadretti, ma diretti verso sinistra. Questa era la prima richiesta. Questa è la seconda richiesta. E poi chiede ancora, terza richiesta, meno 3 volte V. Allora, se V è 4 quadretti, meno 3 per più 4 quadretti fa meno 12 quadretti. Quindi qui avremo, questo lo facciamo in viola, no? Allora, vediamo, 2, 4, 6, 8, 10 e 12. Ecco. Però a sinistra questo è meno 3B. Dove vi ripeto che sempre l'unità è più 1 di un quadretto verso destra. qui avendo moltiplicato V per uno scalare, per un numero, avremo sempre un vettore che ha la stessa direzione, cioè sta sulla stessa retta, quella orizzontale, ma avrà un verso che è uguale a U se il multiplo è un segno positivo. Quindi questo e questo, fatemi disegnare qui sotto il vettore unitario, ecco. V e due volte V sono entrambi nella stessa direzione e stesso verso. Ma mentre V e meno un mezzo V hanno la stessa direzione ma versi opposti, perché il coefficiente è negativo, così come con meno 3V. Meno 3V ha lunghezza tripla di V ma verso opposto perché il multiplo è negativo. Allora, proviamo, se non ci sono domande, proviamo quest'altro esercizio, vediamo se riesco a cambiare pagina. C'è una domanda? Sì. Dimmi. Nel caso V non fosse più 4V ma meno 4U. Allora, ok, facciamo così. Se V fosse stato meno 4. Nota bene. La linea sopra la V si mette nella direzione... No, è sempre verso destra. Se chiamiamo un altro nome, mettiamo W, il vettore W che sia meno 4V U, il vettore, la freccia è sempre nello stesso verso. Ah, ok. In questo caso avremo che W, fatemelo disegnare, che ne so, in verde, no, verde scuro, è lungo 4, ma verso sinistra. Quindi abbiamo sempre l'unità verso destra, per come riferimento. Ecco, questo è U, e questo è meno 4U. Però la freccia sul simbolo è sempre nello stesso modo. E se U non è specificato, la freccia è sempre verso destra? Sì, ma in realtà lì abbiamo carta bianca. Uno può dire, beh, per me è positivo verso destra, per me è positivo verso sinistra. Ma una volta che si mette d'accordo, si fissa una convenzione e poi viene rispettata. Normalmente si prende a riferimento la direzione orizzontale verso destra. Però le convenzioni possono essere cambiate. Invece la relazione meno 4U comunque ti dice che W e U sono diversi opposti, perché c'è un meno 4 e mezzo. Qualunque sia il verso di U e la direzione di U, W ha la stessa direzione ma un verso opposto. Cioè i due vettori in questo caso sono paralleli ma non equiversi. Qui potremmo... Quale era l'altro? 32 vettori in questo caso è un pari. Allora. Vi propongo questo. Scusate ho difficoltà a muovere il pagino del libro. Ecco, per esempio l'esercizio 30. Esercizio 30. La pagina 122. Dice Prendi un vettore Qui, ahimè, lo chiama U Noi cambiamo il nome perché sennò ci confondiamo con quello unitario Il vettore è V Che ha un modulo, quindi Il modulo si può scrivere con le due bare oppure con la lettera senza la freccia sopra Che vale 6,2 In qualsiasi unità sia E riforma un angolo alfa di 60 gradi con l'asse orizzontale Ok? Scomponiamo quali sono le componenti del vettore Quindi qual è Vx E qual è Vy E calcola quali sono i moduli delle due componenti Quindi lo disegniamo Qui andiamo a fare i due assi Qui c'è l'asse verticale Qui c'è l'asse orizzontale Questo è X Questo è Y Questo è il nostro vettore V Ok? Questo angolo alfa Misura 60 gradi E qui proiettiamo Sull'asse delle X Questo è Vx E sull'asse delle Y Questo è Vy Ok? Quindi questo per capirci Questa lunghezza si chiama Misura Vy Questa lunghezza È Vx Qui il triangolo è rettangolo Ovviamente E abbiamo già visto che La componente X del vettore Si ottiene Moltiplicando La lunghezza del vettore Che in questo caso Corrisponde all'ipotenusa Per Il coseno dell'angolo alfa Mentre La componente Y Quella verticale Si ottiene Moltiplicando L'ipotenusa Per il seno Dell'angolo alfa Qualunque sia alfa Anche se alfa è più grande Di 90 gradi Quindi nel nostro caso Cosa otteniamo? Beh, otteniamo Che la componente X Ha una lunghezza Che è pari a La lunghezza di V Che è 6,2 Per Il coseno Di 60 gradi Che è un mezzo Quindi sarà 6,2 Per un mezzo Che fa 3,1 Mentre Y Sarà 6,2 Per il seno Di 60 gradi Che è Radice di 3 Fratto 2 Che possiamo approssimare Quindi viene Radice di 3 Volte 3,1 Di 6,2 Per il seno Di 60 E viene circa 5,37 5,37 Unità? Si Qui non dà l'unità L'esercizio dice 6,2 E basta Quindi magari è un numero puro Non lo so Siccome non lo dice Io non lo aggiungo Fatemi scrivere meglio Questo 5 Che non si capisce Molto bene 5,37 Quindi Le componenti Del vettore V Sono 3,1 Per X E 5,37 Per Y La componente X Questa è la componente X Ok Vediamo un altro Per esempio Per esempio Ecco qua Per esempio Questo Ci sono domande? Eh Sì Dimmi Quindi VX Si trova sempre Moltiplicando V per Sì Certo Dell'angolo Di alfa Esatto E invece VX Un per il seno Esattamente Queste sono Le regole Per ottenere Dalla Conoscendo Quanto è lungo Il vettore E la sua orientazione Che angolo Forma Qui avete Le due componenti Cartesiane Poi Si può fare Anche l'inverso Facciamo Un esercizio Inverso Questo Questo non c'è Sul libro Nel momento Adesso Immaginate Di avere Un altro vettore Chiamiamolo Che ne so A Che ha Queste componenti Ne so 2,5 In X E 3,1 In X Ok Quindi lo disegniamo Qui c'è X Qui c'è Y 2,5 Questo è 1,2 Più o meno E qui Questa è X E 3,1 Più o meno Qui Questo è Y Quindi queste Sono le coordinate Le componenti Sono le coordinate Cartesiane Della punta Della punta del vettore Quindi questo Punto qui Ha coordinate 2,5 Qui ho 2,5 Qui ho 3,1 E quindi mi sono utili Per disegnare il vettore Vado dall'origine Fino Alla punta Questo È il vettore A Quanta è la lunghezza Del vettore Per trovare La lunghezza Di A Che possiamo scrivere Così È sufficiente Usare il teorema Di Pitagora È la componente X al quadrato Più la componente Y al quadrato Tutto sotto radice Nel nostro caso A È lungo Radice quadrata Di 2,5 Alla seconda Più 3,1 Alla seconda Tutto sotto radice E questo ci dà Calcolatrice Alla mano Radice di 2,5 Al quadrato Più 3,1 Al quadrato E viene 3,98 Circa Ovviamente Sono sempre approssimati Poi qual è L'angolo Alfa Che il vettore Forma con l'asse Delle X Abbiamo già visto Che alfa Lo ottengo Facendo La funzione Tangente Inversa Di Ay Fratto Ax Quindi qual è L'angolo La cui tangente È Ay Su Ax Quindi Meno 1 Di 3,1 Diviso 2,5 Ma potremmo Anche Utilizzare La nostra Calcolatrice Che è qui Quindi Tangente Inversa Di 3,1 Diviso 2,5 E viene Circa 51 Gradi 51,1 Grado Anche questo Ovviamente Si tratta Di un valore Approssimato Qui Avete Le due Regole Inverse Qui Trovo La lunghezza Del vettore A partire Dalle componenti E questa Mi dà L'orientazione Del vettore C'è qual è L'angolo Che il vettore Forma Con l'asse Delle X Proviamo Di un valore Di un valore vediamo per esempio un esercizio che potremmo fare insieme è ancora questo il 22 per esempio mi sembra interessante esercizio 22 sempre pagina 121 e dice qui abbiamo due vettori uno lungo 8 chiamoli a e b a e lungo 8 b e lungo 10 l'angolo alfa tra e b misura 60 gradi determinare il vettore s somma ma possiamo prendere riferimento per esempio il vettore a disegniamo il vettore a tutto orizzontale si certo ripeteremo due vettori uno lungo 8 l'altro lungo 10 e sappiamo che tra i due c'è un angolo di 60 gradi come quanto è lungo e come orientato il vettore somma si adesso ti mostro il grafico il disegno adesso ti mostro il disegno immagina che questo sia il vettore a allora prendo da a immagina un righello un goniometro misura un angolo di 60 gradi e disegno il vettore b b è lungo 10 e questo angolo misura 60 gradi come orientato il vettore somma allora qui facciamo così prendiamo i due assi cartesiani in modo tale che uno dei due assi sia tutto lungo a perché così mi è più comodo questo è y ok quindi nel nostro caso il vettore a a componente solo lungo x quindi sarà 8 lungo x e 0 lungo y mentre b ha due componenti bx e b y che adesso calcoliamo la componente bx si ottiene moltiplicando b per il coseno dell'angolo alfa la componente e b y la ottengo moltiplicando b per il seno dell'angolo alfa che è 60 gradi quindi avrò 10 per il coseno di 60 che è un mezzo e quindi che ottengo 5 qui ho 10 per radice di 3 fratto 2 quindi o 5 volte radice di 3 quindi semplifico e questo è il valore esatto se volete possiamo anche approssimarlo ogni volta che posso dare il valore esatto comunque è meglio dare il valore esatto mi viene 8,66 circa adesso per sommare i due vettori le vettore somma cioè a più b non faccio altro che sommare le componenti perché perché allora a posso scriverlo come 8 lungo x e 0 lungo y più b che è 5 lungo il versore x e più 5 radici di 3 lungo il versore y vi ricordate i due versori no? ne abbiamo uno facciamo in azzurro lungo l'asse delle x questo è x e l'altro facciamolo in rosso questo è y quindi se proietto i due vettori su due assi avrò le componenti una orientata come lungo l'asse delle x e l'altra lungo l'asse delle y quindi i due vettori possiamo esprimere in questo modo in termini di componenti poi ovviamente le componenti y si sommano tra loro e quelle x anche un po' come in algebra si fa con i monomi no? monomi simili posso sempre sommarli tra loro quindi qui 8 più 5 che fa 13x più 0 è 5 radice di 5 e mi rimane 5 radice di 3y quindi avremo che la componente x della somma misura 13 la componente y della somma misura 5 radice di 3 quindi la lunghezza del vettore somma s è data da la radice quadrata di la componente x al quadrato più la componente y al quadrato nel nostro caso avremo radice di 13 la seconda più 5 radice di 3 tutta la seconda e quindi allora dice di 13 la componente y al quadrato più 5 radice di 3 un istante solo quindi circa 15,62 questa è la lunghezza del vettore per determinare l'orientazione quindi qui basta disegnarlo 13 quindi abbiamo circa qui questo è il viola disegno il vettore somma eccolo questo s e questo sarà chiamiamolo beta l'angolo che il vettore s forma con l'asse delle x quindi la direzione di beta beta di s vale la tangente inversa di la componente y del vettore fratto la componente x quindi la tangente inversa di 5 radice di 3 diviso 13 e viene fatemi concludere dopo rispondo alle vostre domande tangente inversa di 5 per radice di 3 diviso 13 circa 33,7 gradi circa ci sono domande dimmi nel passaggio per trovare s il vettore s i risultati di s x e s y non sono il valore c'è il valore della misura quanto lungo s s lo troviamo dopo esatto questi sono le componenti 13 e 5 radice di 5 sono le componenti quindi quando scriviamo il vettore di s scriviamo la lunghezza quando scrivo questo questo simbolo solo s si intende la lunghezza dell'intero vettore e quando facciamo con la freccia sopra? quando faccio con la freccia sopra si intende l'intero tutto il vettore non solo la sua lunghezza quindi l'insieme di intensità lunghezza e verso ecco qui il vettore s è questo una volta che conosco le sue componenti del vettore so tutto posso calcolarmi la lunghezza in questo modo e la sua direzione in questo beta in questo caso è l'angolo che il vettore s forma con l'asse delle x questo angolo qui che è un po' più piccolo di 60 ovviamente quindi in questo caso che l'inconità era il vettore s bastava un altro passaggio lì? si qui abbiamo bisogno prima decidere quali assi usare qui una volta che ci dicono che hai due vettori e l'angolo tra i due vettori noi siamo liberi di usare le componenti che vogliamo quindi possiamo prendere per esempio due assi qualsiasi oppure possiamo prenderne uno lungo un vettore che è la cosa più comoda perché in questo caso uno dei due vettori in questo caso A è automaticamente proiettato sull'asse x ok? non mi serve più proiettare l'otto su x e su y poi ho scelto gli assi ho fatto una scelta di assi l'altro vettore questo si devo proiettarlo e siccome tra i due c'è un angolo di 60 gradi se x è lungo A anche l'angolo tra B e x è di 60 gradi per ovvi motivi quindi utilizzo la regola di scomposizione che è questa moltiplico la lunghezza del vettore per il coseno per avere la componente x oppure per il seno per avere la componente y trovo le due componenti e dopodiché posso eseguire la somma dei due vettori perché una volta che li ho scomposti la somma da vettoriale diventa algebrica e quindi una volta che poi le componenti la cosa è fatta allora possiamo riassumere in questo modo se preferite vediamo se riusciamo a ripercorrere un po' quel percorso fatto quindi in generale immaginate di avere due vettori a di lunghezza a piccolo e angolo alfa con l'asse delle x e b di lunghezza b e angolo beta voglio sapere il vettore somma voglio calcolare il vettore somma quindi mi serve la lunghezza di s e chiamiamolo gamma l'angolo che forma con l'asse delle x e per farlo scompongo il vettore a come faccio? beh ho ax che è a per coseno alfa no seno scusate e ay che è a per seno alfa scompongo b e ottengo bx che è b per il coseno di beta e by che è b per il seno di beta quindi due vettori adesso posso scriverli in questo modo a vale ax lungo l'asse delle x più ay lungo l'asse delle y quindi b è bx lungo la componente x e by per il versore y il vettore somma a più b non faccio altro che sommare componente per componente ax più bx lungo la componente x più b y più b scusate ax ay eccolo qua ay più b y nell'altra componente quindi il vettore somma sx sarà la somma tra la componente x di a più la componente x di b mentre sy è la somma tra la componente y di a più la componente y di b una volta che ho queste due il vettore somma ha una lunghezza s che vale radice quadrata di sx alla seconda più sy alla seconda e quindi la sua orientazione chiamiamo immaginiamo che il vettore somma sia questo questo è s questo è gamma la tangente di gamma vale sy fratto sx quindi l'angolo gamma è la tangente inversa di sy fratto sx questo è più o meno il metodo generale per arrivare a disegnare meglio questa freccia a trovare le componenti e l'orientazione del vettore somma nel caso di prima per esempio abbiamo fatto in modo che alfa fosse in zero cioè l'angolo l'asse delle x fosse tutto lungo a ma si può fare anche se non lo è altre domande? quindi in questo modo ci serve per capire come disegnare bene s esattamente con questo hai sx e sx sono forse anche male proiezioni sì esatto sono esattamente le componenti o se preferisci le proiezioni questa è sx e qui ha sx o se preferisci ancora sono le coordinate della punta del vettore le coordinate cartesiane dimmi e quindi sono equivalenti ai cartetti di un eventuale triangolo di un immaginario triangolo rettangolo? sì esattamente attenzione l'idea che questi formi un triangolo rettangolo vale nel primo quadrante ma se s è nel secondo nel terzo nel quarto l'angolo gamma è più grande è di 90 gradi quindi non posso più parlare di triangolo rettangolo o di cateti sì sì prego altre domande? vediamo se riusciamo vediamo ancora questo ancora qui attenzione vi ricordate la regola del parallelogramma se ho due vettori qui mettiamo il vettore A e qui il vettore B con la regola del parallelogramma dicevamo beh tracciamo la parallela ad A scusate qui c'è il vettore B non neanche chiamato ecco tracciamo la parallela al vettore A che passa per la punta di B poi la parallela al vettore B che passa per la punta di A ottengo un quadrilatero che è un parallelogramma e la diagonale che parte dall'origine comune di A e B e va nel punto opposto è la somma questo vettore è la somma A più B e l'altra diagonale questa diagonale qui mettiamola in viola che cosa rappresenta? beh se va dalla punta di A alla punta di B questa per esempio rappresenta la differenza B meno A la diagonale che parte dall'origine comune rappresenta la somma l'altra diagonale rappresenta la differenza quale delle due differenze tra B meno A e A meno B? beh la punta da cui parte è il vettore che ha davanti il segno meno quindi se vado da A a B allora la differenza sarà B meno A se invece vado da B ad A la differenza sarà A meno B ok detto questo per oggi e questo lo useremo una volta prossima per fare altri esercizi per oggi ci fermiamo qui e questo è venuto è venuto la 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 c'è di